buona gente sono luigi in arte elusio e benvenuti a questa nuova video recensione dal momento che come avrete anche notato gli ultimi libri che ho letto sono state letture abbastanza pesanti un po sfiancanti ho dovuto prendermi una piccola pausa non dalla lettura quello mai ma diciamo che ho voluto incentrarmi su letture un po più leggere un po più soft un po più dai un po più a rilassamento mentale e ne ho approfittato per poter leggere questo questo manuale diciamo non è proprio un libro infatti lo stesso autore dice che non è un libro non è un romanzo né una biografia un'autobiografia è una sorta di manuale un kit di sopravvivenza sul web visti i tempi che corrono e anche una raccolta di aneddoti interessanti diretti anche ma anche divertenti e il tutto accompagnato da un'ottima esposizione stilistica bando alle ciance ma come avrete capito anche dal titolo del video oggi vi parlo di buonisti di jacopo meglio allora prima di iniziare a parlare di questo testo molto breve si legge veramente in un niente io poi me lo sono pure voluto dosare un poco a mano a mano per godermelo meglio iniziamo a parlare prima dell'autore chi è jacopo meglio jacopo meglio è un giornalista uno scrittore e un attivista è nato con la sindrome da pterigi multipli o più comunemente detta sindrome di escobar sì escobar come come il narcotrafficante io l'avevo pensato detto ma proprio come la sindrome di escobar e lui proprio come il narcotrafficante lui stesso l'ha scritto sì sì è come lo stesso nome del narcotrafficante che consiste in questa sindrome è una sindrome che limita la mobilità degli arti e ciò comporta anche ad anomalie della struttura del fisico quindi jacopo ha sempre vissuto su una sedia a rotelle lui invece di lasciarsi abbattere un poco depenalizzare da questo suo da questa sua condizione ha scelto di farne la sua forza e parte sempre dal presupposto che lui non vuole essere trattato in base unicamente alla sua carrozzina cioè per essere per citare glia non vuole che la gente con lui sia carrozzina centrica che chi ha visto glia sa a cosa mi riferisco e di conseguenza ha deciso di puntare a una tivi a una campagna che ha un'iniziativa che si chiama appunto hashtag voglio prendere il treno che è un'iniziativa che punta a venire in in aiuto di persone che magari hanno difficoltà nella mobilità annullando quelle che sono le barriere architettoniche ovvero quelle esposizioni cittadine comunali di ordine pubblico che non permettono una maggiore mobilità per le persone con disabilità spero di non risultare troppo di non aver sbagliato termine perché purtroppo ragazzi io finisco sempre per scontrarmi con il politically correct che è pure un argomento che troviamo in questo libro allora bene parlando avendo parlato di jacopo melio della di lui com'è del di ciò che fa nella vita delle sue iniziative avrete capito quindi anche che si tratta di un personaggio di un certo calibro proprio 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 un anno fa all'incirca se non sbaglio ha ricevuto la nomina a cavaliere della repubblica da sergio mattarella quindi possiamo capire che stiamo parlando di una di un personaggio di una certa visibilità e a lui ovviamente gli succede quello che succede a quasi tutti i personaggi di una certa visibilità ovvero essere esposto sul piano mediatico e sociale anche a gli attacchi dei haters non ho bisogno nemmeno di non ho bisogno nemmeno di spiegare chi siano questi haters cosa facciano e cosa non facciano sappiamo già tutti più o meno cosa sia il il cosiddetto movimento cattivista con tutte le solite guerre ormai ogni giorno basta che andiamo a vedere siamo informati di feroci attacchi sui social su facebook su twitter contro una persona che invece di dire a ha detto b contro una persona che invece di dire bianco ha detto grigio contro chi ha detto che invece di preferire la pizza margherita preferisce di più la quattro stagioni eccetera ce n'è di tutto e di più ogni giorno non ce ne facciamo mancare nulla e ogni volta nelle classifiche di twitter a quanto capito si trova sempre a in cima alla lista degli hashtag più usati la nuova guerra cattivisti e contro bonisti eccetera bene proprio partendo da questa da questo tematica fin troppo attuale purtroppo aggiungo io jacopo introducendo anche la questione con il resoconto della storia di emily emily chi è una una ragazza un adolescente francese che vittima del bullismo sia a scuola che sui social si è tolta la vita e i suoi genitori hanno deciso di finanziare una campagna con che tuteli le vittime di cyberbullismo pubblicando e rendendo pubblico rendendo nota la vicenda della figlia pubblicando il suo diario e stanziando così i fondi per questa iniziativa partendo poi proprio da questa orribile vicenda dico orribile perché orribili sono i personaggi che hanno causato un simile dramma ha deciso di parlare un po anche della sua esperienza con gli haters per il suo essere per la colpa di essere un buonista colpa che ci tenga a dirlo ragazzi faccio di cui mi sono colpevolmente macchiato anch'io sì ragazzi faccio coming out qui in video non dico in diretta perché non è in diretta ma faccio coming out con voi e vi dico che io sono un buonista bene mi sono tolto questo macigno dal petto ho fatto coming out come buonista e possiamo andare avanti a parlarne allora come è strutturato questo testo beh parte dal presupposto che Jacopo racconta quindi la sua vicenda racconto un poco in maniera molto devo dire è molto interessante questo testo perché fa una sorta di classifica dei tipi di haters dei social quindi che soci sono quelli là politici che si tirano in ballo sempre la politica quelli là di ordine molto più sessuale ecco diciamo quelli che con l'intento di offenderti ti invitano a lasciare perdere le tue battaglie di scopare un po di più bene beh al di là della questione offensiva che timidissimi messaggi possono sottintendere io comunque sono sempre a favore dell'amore quindi meno odio su internet e più amore nei nostri letti o su nelle macchine o nelle cabine delle spiagge o dove più gradite voi con le vostre con i vostri con gli amori della vostra vita quindi ragazzi abbasso l'odio viva l'amore sempre e comunque bene quindi fa ordina quindi gli haters nelle in base a ogni classifica e per ogni classifica lui porta sempre degli esempi infatti lui attinge a piene mani da i messaggi di odio che gli sono arrivati e come dice lui continuano ad arrivargli sul suo profilo facebook principalmente ovviamente non oscura i nomi delle persone oscura soltanto i cognomi va bene e su questo almeno tuteliamo la privacy così almeno se qualcuno ha qualcuno dei dei odiatori di jacopo meglio sono ritrovati a leggere questo libro tanto per curiosità però hanno potuto trovare una loro perla rara pubblicata da queste pagine un onore forse un po' immeritato ma diciamo hanno dato il loro contributo alla ricerca dello sviluppo del sociale sui social sì scusate ho accumulato parole senza senso perché speravo di dare l'impressione di essere una persona intelligente tanto per cambiare ho fallito vi chiedo scusa allora e di conseguenza quindi porta vari esempi cerca di analizzare anche a suo modo il la corrente di questi cattivisti diciamo da come nascono da cosa sono mossi anche parlando un po anche delle varie battaglie esempi molto più importanti probabilmente quello di greta thunberg al quale jacopo dedica un intero capitolo e credetemi ragazzi per quanto io mentre leggevo questi queste pagine da una parte mi saliva una grande rabbia perché veramente trovavo ho trovato incredibile vedere così tanta non dico malvagità o cattiveria concetti fin troppo nobili per chi lancia attacchi sotto il velo dell'anonimato o comunque della distanza che i social mettono tra te e la persona contro cui ti scagli ma ho trovato incredibile vedere così tanta rabbia nelle persone da rabbia poi indirizzate contro una persona che di base a loro non ha fatto nulla soltanto esposto un po il suo pensiero che poi sono anche i haters che pensano che offendere rientri nel novero della libera espressione no no allora ragazzi mi sembra sia basilare se tu offendi una persona la insulti le dici le peggio cose minacci la le auguri la morte e auguri lo stupro contro i membri femminili della sua famiglia tu non ti stai avvalendo del tuo diritto di esprimerti liberamente no ti sei solo comportando da stronzo se 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 vuoi esprimere il tuo la tua libertà di opinione puoi dire tranquillamente e hai tutto il diritto di farlo guarda non sono d'accordo con quello che dici scusa no guarda mi sei cascato dal pero non mi piace non sono d'accordo con quello che dici basta finisce là avete tutto il diritto di replicare perché c'è questa differenza ragazzi c'è il diritto di esprimersi c'è il diritto di sentire non c'è il diritto di offendere o peggio l'offesa non è un diritto mi spiace ragazzi lo so sto magari risultando troppo buonista beh ve l'ho detto ragazzi sono buonista quindi io mi esprimo in tali termini poi ecco mi risultava incredibile vedere così tanta rabbia perché poi non capisco da dove nasce questa rabbia ma da cosa è derivato da dalla vostra insofferenza da avete problemi vostri e da siete ce l'avete con la vita chissà cosa non lo so ma non mi sono chiari questi scatti io tutt'oggi non riesco a spiegarmelo sì ragazzi ve lo dico io non riesco a comprendere la rabbia allora metto le mani avanti e scusate non voglio dire che io non mi arrabbio mai anzi anzi io mi arrabbio tantissimo io ma se mi arrabbio prima di tutto preferisco arrabbiarmi per motivi più seri del pensiero discordante di qualcun altro per carità ragazzi eh io se mi arrabbio preferisco litigarmi arrabbiarmi che so beh in questo momento non mi vengono momenti motivi seri per arrabbiarmi comunque ma poi non è che vado a sfogarmi su internet se mi arrabbio preferisco arrabbiarmi direttamente con una persona devi isware almeno ho la dignità ho le palle da di arrabbiarmi anche di urlare di lanciare parolacce contro una persona se me la trovo di fianco di fronte eh poi per tornare un poco al capitolo dedicato a Greta Thunberg come vi dicevo io mentre leggevo leggevo con una certa insufferenza perché veramente leggere certi commenti era allucinante mi faceva venire un dolore allo stomaco incredibile come se li avessero indirizzati a me quei quei messaggi però comunque erano stemperati dalle risposte dai commenti che Jacopo scriveva da questo punto di vista Jacopo riesce molto a stemperarlo fa capire molto quanto lui alla fine non è non si lascia ferire da questi messaggi e rispondere in una maniera molto ironica e veramente è la risposta migliore all'odio è meglio rispondere sempre con l'amore o se non con l'amore almeno con la risata ma arrivato al capitolo dedicato a Greta Thunberg io là sono rimasto allibito perché ok ragazzi ormai di Greta Thunberg non si può dire è inutile che vi ve ne parli tanto ormai sappiamo già tutti quanti chi è anche lei soprattutto e sappiamo soprattutto la la campagna mediatica qui è stata la campagna di dissacrante a cui è stata sottoposta pure qui da noi in Italia tra commenti non solo sui social ma anche da parte di personalità di spicco che fossero persone dello spettacolo giornalisti o politici non mi non faccio nomi ma sapete bene di chi parlo e io ero allucinato perché non avevo mai visto sotto quest'ottica adesso adesso siamo abituati a vedere Greta Thunberg io come un adolescente quindi comunque una che sa difendersi da sola ma leggere certi commenti anche con tanto di sfondo di di con uno sfondo sessuale riferiti però ai tempi in cui lei era ai suoi inizi quindi quando aveva 13 anni leggere dei commenti violenti a sfondo sessuale nei confronti di una ragazzi di una bambina ragazzi a 13 anni di questi tempi sono ancora bambini non sono nemmeno adolescenti sono ancora bambini a 12 13 anni leggere simili commenti da parte di uomini adulti uomini adulti ma io ho detto ma veramente ma ma quale tegrado stiamo giungendo ragazzi ma siamo seri ma io non mi faccio capace guardate io mi sto alterando adesso c'è padri di famiglia che dicono certe cose nei confronti di una ragazzina che potrebbe essere loro figlia semplicemente non perché ha fatto qualcosa di male è andata a sbagliare una banca ha scippato ha borseggiato un anziano fuori la posta ma nemmeno ha buttato la spazzatura per terra fuori dal cesto dal bidone dell'immondizia no sta lottando affinché noi possiamo prendere coscienza contro l'inquinamento non sta facendo una lotta nera ce ne dobbiamo essere accorti adesso ragazzi intanto che c'è stato questo periodo in cui siamo stati tutti quanti chiusi in casa le macchine sono state ferme le fabbriche sono state chiuse abbiamo visto quanto l'inquinamento si sia diminuito e quanto la natura ne abbia giovato e poi appena inizia la fase 2 si aprono le fabbriche nemmeno 12 ore tact l'inquinamento ritorna di nuovo tutto appunto a capo greta kundtumberg non dice castronerie non sta dicendo cose sbagliate e secondo me non si sta nemmeno non si sta nemmeno esprimendo male con gli altri perché molti l'accusano di esprimersi male no non lo sta facendo se fosse un ecoterrorista allora potrei capire delle critiche ma lei sta facendo una campagna pacifica per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dell'ambiente ma veramente c'è gente che la offende io ragazzi io non ho parole leggero certi commenti perché io comunque non mi sono mai voluto concentrare più di tanto anche perché ragazzi come avete capito io reggo poco certi atteggiamenti io sarà che comunque sono poco attaccato ai social io sui social sto veramente poco il mio profilo twitter mi sono scordato ormai da da dieci anni ormai la password non lo sta sta prendendo la polvere lì su facebook ci sto il meno che posso e comunque la ci fado giusto che so per condividere i miei video per scrivere qualche post così o per sentirmi con i miei amici stessa cosa anche su whatsapp ma per il resto non ci sto non seguo pagine non prendo non prendo parte a simili assembramenti multimediali perché non ne sento le esigenze e soprattutto perché non mi piace stare in mezzo a gente violenta e dopo aver letto questo libro me ne sono contento di veramente perché ho risparmiato ci ho guadagnato in salute al mio fegato veramente ragazzi che io continuo a dirlo non capisco io non capisco il meccanismo della rabbia ma della rabbia su queste basi su questo sproposito perché essere così tanto odiare così tanto delle persone perché hanno un pensiero gestiscono un'iniziativa diversa da quella che potrebbe essere il nostro orientamento politico religioso sessuale quello che è ma perché cosa che ve lo fa fare lo dico veramente non lo so se qualcuno magari che fa queste cose mi sta seguendo ma io veramente lo sto chiedendo perché non lo capisco perché non sarebbe più semplice ignorare spegnere tutto andare a farsi un caffè uscire un poco perché adesso finalmente possiamo uscire un poco chiacchierare magari con qualcuno fare qualcosa di più piacevole che c'è di piacevole nell'odiare che c'è di piacevole nell'arrabbiarsi ecco ragazzi questo libro si chiama buonisti ma più che altro si parla i buonisti rimangono sullo sfondo i rimangono rimangono più che altro presenti sono molto più presenti i cattivisti e allora perché il termine buonista perché penso sia un libro indirizzato anche ai buonisti anche soprattutto ai buonisti cioè io principalmente lo consiglierei ai cosiddetti cattivisti magari se vedono le cose da un punto di vista filtrati da una certa ottica potrebbero capire che quello che fanno sui social magari è una gran cazzata alla fine fanno solo del male agli altri e loro di per sé non ci guadagnano assolutamente nulla ma dall'altra penso che serve anche a far capire una persona come come sono io magari che è poco social e poco consapevole magari di certe di certe questioni a capire veramente lui da che parte sta io leggendo questo libro ho capito veramente di essere buonista io ad esempio che anche se mi capita magari io per mia fortuna non ho mai subito cyberbullismo non mi sono mai trovato in mezzo ho subito bullismo alle scuole medie ma quello è un dettaglio a parte non c'entra nulla non è l'ambito in cui voglio parlarne sono stato fortunato da non subire cyberbullismo e soprattutto sono stato abbastanza fortunato da ricevere un'educazione che mi ha fatto capire quanto certi comportamenti siano negativi non solo per me in quanto persona ma soprattutto per gli altri soprattutto se ci viene introdotto questo libro con la storia di Emily quindi e appunto su questo vorrei fare un'ultima domanda magari sempre a qualche odiatore che è incappato in questo video lo sta seguendo eccetera già sta preparando magari il pollice in basso o qualche commento al vetriolo a cui io risponderò con estrema cortesia perché ragazzi io penso sempre che il modo migliore per rispondere a quelle che sono o critiche violente o offese gratuite e ne ho ricevute qualcuna qui su youtube non ne ho ricevute tante per fortuna però comunque le ho ricevute la maniera migliore non è rispondere con ulteriore offese ma bensì rispondere in maniera educata perché una cosa che ho imparato dalle mie povere esperienze nei social è che se incontri un maleducato su internet rispondigli con buona educazione e vedrai che lui non saprà proprio a cosa aggrapparsi e sarà lui che deciderà di tagliare la corda o più concretamente come è successo a me per fortuna di scendere a più miti consigli togliersi dalla faccia l'immagine dell'odiatore e dire va bene scusa ciao ci si vede mi è successo ovviamente così non scendo troppo nei dettagli per motivi di rispetto della privacy altrui beh io quindi di per sé questo libro lo consiglio sì ragazzi lo consiglio di cuore lo consiglio perché è scritto bene lo consiglio perché anche se ho fatto emergere un po' il mio lato polemico un po' il mio lato scandalizzato e quant'altro è di per sé un libro che ti leggi col sorriso sulle labbra perché Jacopo Melio non fa mai un dramma non fa la vittima ma anzi è molto autoironico con se stesso è molto ironico con le persone che con i suoi odiatori è veramente forse ti indica la maniera migliore per comportarti in stimili frangenti io quindi lo farei leggere a tutti ai bonisti e ai cattivisti lo farei leggere a quelli che sono odiatori per professione su o per perdi tempo sui social anche a quelli là che diventano bonisti e che partendo dall'essere bonisti vivono tanto a lungo da diventare cattivisti per avversare un capolavoro del cinema e soprattutto lo consiglio ai genitori e ai loro figli soprattutto così a meno da far capire sperando sempre che i genitori non siano così incoscienti da mettere i social in mano ai loro figli senza dare loro anche un'educazione basilare che serva loro sia per non diventare cattivisti sia per sapersi difendere a loro volta da persone che potrebbero attaccarli con il cyberbullismo quindi sì libro consigliatissimo io quindi concludo qui spero che la recensione vi sia piaciuta lasciatemi un like se così è stato lasciatemi un dislike se invece non vi è piaciuto commentate ditemi la vostra su questo libro se lo conoscevate o non lo conoscevate se avete letto altro di Jacopo Melio se magari avete qualche divergenza d'opinione io invito sempre tutti quanti a parlarne anche se non la pensate come me però spero sempre in confronti civili maturi e pacifici siamo persone mature siamo persone civili ci vantiamo di essere tali e quindi sono sempre aperto a ogni tipo di dialogo che sia corretto iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao ciao